Col presidente del Procida Luigi Muro, il derby dell'Eister è una partita sempre molto sentita qui, anche per te che sei un procidano. Oggi tornate a vincere dopo tre anni di distanza. Sì, è stata una partita molto bella, intensa. Forio, una squadra molto ben messa in campo, molto arcigna, con delle buone individualità. Ci ha messo in difficoltà non una volta, ma il Procida oggi ha giocato con il cuore, aveva parecchie assenze, lo sappiamo. Ha dovuto rimaneggiare un po' la squadra, però alla fine contava vincere, ormai conta solo vincere a poche partite alla fine, quindi va bene così. Una domanda su mister Impagliazzo che poco fa ha detto che comunque lui si augura che il Procida faccia i play-off, perché è una squadra per cui è una simpatia, ha fatto la scuola a Procida e è pur sempre una scuola isolana. Ricordo quella polemica dell'anno scorso, quindi tutto è rientrato sotto questo punto di vista. Sono contento perché Impagliazzo, più o meno vivendo al Nautico, qualche anno avanti a me, me lo ricordo, è stato una bandiera dell'Ischia, un grande giocatore, ha avuto uno scivolone, volendo criticare all'epoca Tonio Porta che giocava all'Ischia, dicendo che i Procidani non hanno mai fatto calcio. Certamente Procida non è che abbia fatto i professionisti, però ci mettiamo tanta passione. Quindi dimenticato allo scivolone e auguro a taratare a tutto il forio un ottimo campionato. Presidente, vi dando una mano anche le altre squadre, il Casanova ha perso 4-0 sul campo della Mariglianese, il Savoia ha pareggiato contro il Barano, ha accorciato anche in chiave play-off, è questa comunque una domenica positiva per il Procida? Sì, una domenica positiva, anzi noi addirittura facciamo il tifo che il Portici venga campionato e Coppa Italia, così si apre qualche spiraglio in più. Presidente, l'ultima domanda su Vittorio Lubrano, che è un Procidano a cui tieni tanto e che oggi ha fatto una grande partita. Sì, Vittorio è un giovane serio, volenteroso e con delle oggettive doti anche fisiche e anche tecniche, sta uscendo bene, quindi ovviamente deve crescere molto e sono convinto che con la sua serietà e applicazione lo farà. Grazie a tutti.